Allora, partiamo dal presupposto che sono stanco che mi sono fatto 20 ore di bullman qua. Angelo Casadei, portiere, difenderò la mia porta al costo di allungarmi il più possibile. Vincenzo Grimaldi, terzino sinistro. Caso Patrizio, terzino. Luca Pannozzo, difensore. Carlo Ferrara, attaccante, compagno di distanza dei Romani. Matteo Casisa, c'è difensore centrale, classe 83, palermitano e speriamo che sia un anno positivo per noi. Patrizio Caso, terzino. Giuseppe Tomacelli, terzino destro. Giuseppe Bazzano, portiere, sono il più piccolo della rosa. Sebastiano Falanca, difensore centrale, difenderò senza fare sconti a nessuno. Antonio Longobardi, terzino. Fabio Nuvoli, centrocampista. Giuseppe Di Marugia, centrocampista. Mi chiamo Bucci Sebastiano, nato a Siracusa, 2-3-61, magazziniere di seconda. No, primo! 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 Primo, bene! Nicola Mandarano, attaccante. Giano Romano, attaccante. Giambavolo Spadaro, attaccante. Carlo Siciliano, centrocampista. Mollare? Non conosco questo vocabolo. Gaspari Perlegrino, centrocampista. Matteo Federici, attaccante. Giuseppe Zagami, difensore centrale. Il mio compito è difendere e sfuterò sangue per farlo bene. Carmelo Bonarico, centrocampista. Maurizio Perrelli, centrocampista. Antonio Ciccarone, direttore sportivo. Nicola Tramutola, allenatore in seconda. Luca Aprile, preparatore dei portieri. Domenico Giacomarro, allenatore. Emanuele Cannone, preparatore atletico. Un ricordo per Paolo Quattropani. Azzurro e pomeriggiantroposso.